La situazione dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli mette a dura prova la resistenza dei cittadini delle isole, costretti a disservizi che passano inosservati da parte delle istituzioni competenti. E dove si prova a fare il punto, i responsabili non rendono le dovute risposte. È capitato giovedì sera, nel corso della trasmissione L'Isola che non c'è, nella quale è intervenuto con una intervista il presidente della Commissione regionale trasporti, Luca Cascone. Le argomentazioni rese dall'esponente politico non sono piaciute al procidano Giuseppe Giacquinto, presente in trasmissione, per il quale Cascone dovrebbe dimettersi per rispetto alle comunità isolane e a Procida in particolare. A Procida, continua Giacquinto, utenti di necessità e mezzi commerciali aspettano da quasi due anni il ripristino della corsa delle 5.50 del mattino per Pozzuoli e quella delle 18.10 da Pozzuoli. Ovviamente per ora solo promesse vane e niente di concreto da ben due anni. Un affronto non sopportabile per chi non sa, viene da dedurre, come si programmano i trasporti via mare e come si risponde concretamente alle esigenze delle utenze procidane ed isolane. Accanto a lui il professor Nicola Lamonica, per decenni rappresentante di quell'outmare che ha portato avanti battaglie per un collegamento più giusto e rispondente alle reali necessità delle popolazioni isolane. Lamonica ha scritto una lettera al presidente De Luca per richiamare la sua attenzione su quanto accade nel Golfo di Napoli, circa i disservizi, le intese armatoriali e le disattenzioni istituzionali se non complicità che oggi interessano il settore dei trasporti marittimi. Il professore isolano ha portato alla luce un episodio capitato al porto di Pozzuoli a due isolani lasciati a terra da un pacchetto in partenza di ritorno da una visita specialistica. La Monica esprime motivi di preoccupazioni se, alle scelte padronali non contrastate e a di poco arroganti, dovessero aggiungersi la incomunicabilità aziendale e la inumanità dei marittimi, contando sull'attuazione di scelte regionali che rompano monopoli e confusioni e che diano garanzie di concorrenza in ogni area portuale e di dignità di cittadinanza ai cittadini delle isole.